Buongiorno, è sabato di Pasqua. Se la paura fa novanta, con la risurrezione di Gesù l'amore ha davvero fatto cento. Un segno che siamo passati dalla morte alla vita, potremmo dire un segno tangibile della risurrezione di Gesù, è indubbiamente la gioia. Se la nostra gioia è ancora velata di tristezza, facciamola risorgere. Se non riusciamo ad esprimere gioia è perché non abbiamo ancora fatto esperienza di un amore vivo, forte, unico, il solo amore che può vincere il male e la morte che sono dentro di noi. Quando l'amore di Dio si accasa nella nostra vita, allora noi diamo cittadinanza alla gioia, una gioia che ci deriva proprio dall'essere abitati da questo amore. Dunque, amore dentro e gioia fuori. Serafino di Sarov, un monaco tra i più venerati santi della Russia moderna, era solito rivolgersi alla gente con questo saluto, mia gioia, Cristo è risorto. È interessante notare che San Serafino non salutava così soltanto nel tempo pasquale, ma ogni giorno dell'anno. Che bello sentirsi chiamare gioia, sapere che ogni giorno noi siamo un segno di gioia, un destino di gioia per gli altri. E che bello riconoscere nell'altro non un tormento, ma una gioia, non un problema, ma un dono. La gioia non dice che siamo spensierati, ma che non ci lasciamo vincere da alcun pensiero che ci possa separare da Dio e così farci cadere nello sconforto. La gioia ci regala un'aria da salvati. La gioia rivela la nostra forza interiore. La gioia ci rende più giovani e non permette all'amore di invecchiare. Sì, amore vero, 100%.